Ciao a tutti, buongiorno, sono Michela Motta, sono una giornalista di ELL, qui con me oggi c'è Alessandro Tomasi, è il CEO e co-founder di Will, che è una piattaforma di informazione che si occupa anche di sostenibilità. Siamo qui per raccontare la sostenibilità che sta a cuore ai giovani. Allora, incominciamo a capire un po' perché è nato Will e che tipo di community avete. Sì, ciao a tutti, io sono Alessandro, Will nasce da un doppio bisogno, un bisogno che era quello di condividere una mia passione, che è l'attenzione per l'attualità, per quello che succede intorno a noi, che non era molto condivisa dai miei amici, non erano grandi lettori di notizie, mi spiace dare questa informazione alla categoria dei giornalisti, e dall'altra parte un bisogno invece che vedevo quando ero in azienda, quando dicevo il manager nelle aziende, un bisogno per le aziende di raccontarsi in maniera completamente diversa, c'è quel cambiamento dal capitalismo degli shareholders a stakeholders, quindi gli shareholders, quelli che hanno delle azioni, parti dell'azienda, a invece tutti quelli che sono toccati dal comportamento, dagli effetti di un'azienda, che possono essere la community locale, la community dove il bene, il prodotto viene creato, e tutto quello che c'è nel mezzo sostanzialmente, quindi nasce così e l'idea era quella di non replicare un errore che invece mi era capitato di fare in passato quando lavoravo in azienda, e c'è quello di spacchettare i community, lavoravo per Airbnb in passato, ad un certo punto abbiamo fatto un blog dove raccontavamo la normativa sugli affitti brevi in giro per il mondo, ora, io lo sapevo, a chi ne frega niente di cosa succede la normativa sugli affitti brevi in Arcanso, e allora con Will abbiamo fatto un lavoro inverso, cioè quello di aggregare una community di persone che fossero interessate a dei temi, chiamiamoli sociali, di impatto, di attualità, che fossero in una maniera diversa rispetto all'informazione tradizionale e quindi quello che è il valore vero, infatti è così che noi ci definiamo non un media, che è un media, invece Will si definisce come una online first, perché siamo nati online, social media first, se volete, community di utenti e aziende che sono consapevoli del loro impatto sul futuro. Questa cosa qua è la base al centro del nostro driver di cambiamento, del nostro modello di business, perché noi siamo, campiamo, diciamo così, attraverso le sponsorizzazioni dei brand che però vogliono raccontare non il loro prodotto o il loro servizio, ma come loro hanno cambiato la produzione di quel prodotto o servizio. Allora facendolo, insieme tutti quanti creiamo degli utenti più consapevoli, degli utenti più consapevoli romperanno di più le balle alle aziende perché facciano prodotti più sostenibili e questa è una spirale. Una community piuttosto nutrita, no? Bastanza nutrita. Sì, su Instagram sono un milione e mezzo di follower oggi e poi ci sono TikTok con Luna che lo segue, poi ci sono YouTube, insomma più o meno tutte le piattaforme e i podcast che dove anche investiamo tanto, ne abbiamo fatti 32. Alzo un po' la voce magari. Sentite? Acon. Vogliamo chiudere qualcosa? Alzo un po' di più la voce se vuoi. Ah, magari così, dritto. Di quali cambiamenti si occupa Will? Allora, Will, nel mare magnum dell'informazione, perché oggi non c'è un problema naturalmente di reperimento di informazione, ma c'è un problema di scelta, diciamo così, di cerni tra le informazioni, Will ha deciso di parlare di poche cose, di quattro cambiamenti e di farlo sostanzialmente per creare che cosa? Una consapevolezza come antidoto alla velocità e alla complessità del cambiamento. Se voi ci fate caso, anzi, cito una frase che non è mia, così diciamo le cose intelligenti le dicono gli altri, questo direttore di una testata, adesso non ricordo, negli Stati Uniti diceva che il problema delle notizie è che partono sempre alla stagione 6, episodio 3, perché hai l'idea di esserti perso delle puntate precedenti, dici ma non so i personaggi, non so i protagonisti, non so i temi, perché sono complicati. Quindi per evitare questa cosa noi togliamo un sacco di rumore e parliamo solo di quattro cose. Il primo è un cambiamento demografico, questo è meno vero in Italia, vero sicuramente a livello globale, ma è molto vero in termini numerici, ma molto vero in termini valoriali. Gen Z e millennials sono il corpo demografico più rilevante, ok? Questa cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono due enormi gruppi di generazioni, posto che credo sia ora di passare oltre la divisione tra generazioni, che comunque è un'iniziativa molto recente, fino a qualche tempo fa non si parlava di generazioni, adesso lo facciamo, ma facciamo finta per un attimo. Gen Z e millennials sono il corpo demografico più forte, più grosso, più rilevante. Sono più rilevanti in termini di scelta di consumi, modo di cercare informazioni, modo di decidere come loro si informano, di condividere le informazioni. La forza di queste due generazioni è dimostrata dal fatto che mia mamma ha Instagram. Cosa se ne faccia mia mamma che vive in un eremo in Liguria, di Instagram, non ne ho idea, ma ha sentito questo bisogno, perché le due generazioni precedenti hanno esercitato una forza molto forte, forza molto forte, non una forza molto rilevante. Che forze, quali spinte valoriali portano questo cambiamento demografico? Prima di tutto una richiesta di una società più equa, perché la lotta alle diseguaglianze, la lotta per l'integrazione, la lotta alle discriminazioni sono forze valoriali che arrivano principalmente da queste due generazioni e che richiedono di mettere all'agenda un nuovo modo di organizzare la nostra società, in maniera più equa. E questa è una spinta gigantesca. Il secondo cambiamento è un cambiamento tecnologico. Noi diamo per scontato, io ho un corso allo Iulm, con l'Università Milano, di Sharing Economy e Turismo, e mi rendo conto di aver insegnato delle cose tipo dell'Ottocento, perché tu dici, no, una grande innovazione, Airbnb aveva una mappa e tu vedevi la casa, Uber, una mappa con una macchinina che si muove, aveva, avevano per scontato. La velocità del cambiamento è tale, per cui quello che dieci anni fa, quindici anni fa, era rivoluzionario, oggi è una noia mortale. Però non è solo tecnologico-digitale, il cambiamento è anche tecnologico-scientifico. Molte delle sfide che noi abbiamo oggi, anche a livello etico, arrivano da questo, pensate a tutto il tema delle AI, eccetera, naturalmente dell'intelligenza artificiale, e quindi questo cambiamento tecnologico è gigantesco e fa paura. Noi abbiamo un podcast che faccio io, insieme a Riccardo, e che comincia tutti gli episodi dicendo che il cambiamento arriva piano piano e poi tutto ad un tratto sembra sommergerti, no? E anche questa è rubata da Hemingway che fa dire i suoi personaggi come se è andato in bancarotta, prima piano piano e poi tutto ad un tratto. E quindi questo cambiamento tecnologico porta a una richiesta di una società più data-driven. Pensate al lockdown, quando c'è stata la chiusura delle varie bar, le varie attività economiche, il modo per riaprirle era in base a un numero, il tasso, il coefficiente di diffusione di quel virus. Ecco, era un modo molto trasparente di prendere delle decisioni. Quante volte invece abbiamo quel tipo di trasparenza nel prendere delle decisioni? Molto meno. Un cambiamento nel modo di produrre valore economico, che è un po' quello che dicevo prima, io non voglio solo che la mia maglietta costi poco, ma voglio anche che sia però costruita in maniera socialmente sostenibile lungo tutta la filiera. E dall'altra parte, sempre più persone vogliono diventare freelance, meno persone vogliono lavorare in azienda, in un posto fisso, la settimana corta, smart working, eccetera. Da ultimo, oggetto alla nostra chiacchierata di oggi, il cambiamento, non il cambiamento climatico, ma il cambiamento nella sensibilità al cambiamento climatico. Oggi è un tema. C'è chi ovviamente è stressato da quest'idea del greenwashing, cioè che si parla di cambiamento climatico in maniera leggera. Se volete, come dire, nota di ottimismo del 12 e 14 minuti, credo che sia una cosa, un male necessario, mettiamolo così, il greenwashing, perché vuol dire che siamo in una fase in cui tanti le aziende, l'offerta politica, i comunicatori, sentono il bisogno di prendere una posizione là sopra. Non sono ancora molte volte in grado di farlo in maniera sostanziata rispetto a un cambiamento che portano in atto, che portano in essere, però intanto c'è una consapevolezza che quella cosa lì deve essere al centro dell'agenda. Ed è un bene, perché a quel punto, se l'utente poi è consapevole, l'utente è consumatore, l'utente è elettore, l'utente è elettore di un media, allora se è consapevole dirà e no, cara azienda, e no, caro politico, e no, caro media di comunicazione, mi stai raccontando una cosa incompleta, devi fare di più, mi stai raccontando più di quello che effettivamente tu fai per il cambiamento climatico e credo che questo cambiamento sia la cosa più interessante in assoluto. La sensibilità cambiata, no? Esattamente. Ma in questa marea di informazioni, quanto realmente ne sappiamo? Quanto ne sanno, per esempio, la community che vi segue? Allora, tanto e molto poco, che è una risposta del cavolo, però è abbastanza rappresentativa, nel senso che due anni fa abbiamo fatto un giro per l'Italia, abbiamo chiamato Will Meets, abbiamo fatto incontri un po' in tanti centri, sia grandi città che centri minori, siamo stati anche a Napoli, e proprio qua a Napoli c'è un ragazzo che ha detto una cosa meravigliosa, ha detto, ma io so che questa maglietta che io indosso ha un peso, no? In termini di footprint, non solo per le missioni, ma anche in termini appunto sociali, però il suo acquisto, o meglio, l'acquisto alternativo di una maglietta fatta in maniera completamente sostenibile, certificata, eccetera, è molto complicato. Sono anche disposto a pagare quel green premium, cioè a pagare di più perché quella cosa sia sostenibile, però leggere le etichette, farmi tutta l'analisi, fare in modo di sapere che l'azienda non mi stia mentendo, eccetera, è molto complicato. Quindi c'è un pezzo di consumatori che sono molto consapevoli, molto ben informati, con degli scogli davanti per agire in maniera facile, diciamo semplice. Dall'altra parte ci sono anche un'enormità ancora di persone che fanno fatica davanti alla complessità del tema. Cos'è il cambiamento climatico? C'è mille sfaccettature, la parte energetica, c'è ovviamente la parte di mobilità, c'è la parte di costruzione, ce ne sono mille cose e poi ovviamente ci sono il mio potere economico, quel green premium non sono disposto a pagarlo. Quindi tanto la consapevolezza quanto la capacità di effettivamente agire nel mio concreto per fare la mia parte credo che sia un balance molto difficile da trovare. E qua c'è un aspetto che a me interessa particolarmente, cioè davanti a una sfida così complicata, rischia di essere un mostro che non sappiamo da che parte prendere e ti viene la voglia come nel Dunning-Kruger Effect, non so se avete presente quel grafico meraviglioso che parte da non sai niente, ti informi poco, ti sembra di sapere tutto, poi quando più approfondisci, sprofondi nella valle della disperazione perché quel tema è molto complicato e poi ne esci piano 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 sostanzialmente. Ecco, quello che succede, specie sui social dove Will opera principalmente, è che in poco tempo le persone pensano di sapere tanto e quindi di volere anche una soluzione molto rapidamente. Quello che succede è che si crea il concetto dell'ecoansia anche, cioè dell'idea del ma come io ho condiviso questo post ben cinque minuti fa e il mondo non è ancora stato salvato, come è possibile? Adesso sto esagerando naturalmente ma non caschiamo tanto lontano dalla realtà e quindi credo che una soluzione sia quella di cambiare il modo di comunicarlo, specie ai più giovani che hanno chiaramente la sensibilità del cambiamento climatico, cioè al cambiamento climatico ma di dare loro degli strumenti di comprensione, non è più necessario scioccarli perché non è necessaria quel tipo di narrativa, anzi quando Will parla di sostenibilità molte volte, anzi ha imparato a evitare il tono drammatico e spaventoso. Che genera ancora più ecoansia, che crei l'effetto contrario. Esattamente, quindi quello che noi facciamo invece è provare a dare delle soluzioni. Nell'altra stanza di là ho scoperto che c'è Giuseppe di Progetto Happiness, un youtuber col quale abbiamo fatto anche un podcast che abbiamo chiamato Per Terra e che gira intorno a tre assi. Cioè il mondo lo salviamo attraverso un mix di regolatorio, un mix culturale e un mix tecnologico. Vi faccio un esempio, il tema del consumo della carne. O tassiamo tantissimo. L'esempio del pollo che mi facevi l'altro giorno. L'esempio è la mia fissa. Mi è piaciuto tantissimo, lo voglio risentire. L'esempio del pollo è la mia fissa perché o viene tassato tantissimo ad esempio il consumo della carne, oppure viene introdotto una normativa che ne impedisce il consumo, politicamente poi possiamo discutere quanto sia fattibile, facile fare una roba del genere, ma insomma un cambiamento regolatorio, un cambiamento culturale, quindi non è più accettato da nessuno dire a cena questa sera, io prendo la cotoletta, che non si fa col pollo ma va bene, e un cambiamento e quindi dobbiamo diventare tutti vegani, diciamo così, oppure terzo tecnologico, quel pollo non è mai esistito per davvero, non è mai stato allevato in maniera intensiva eccetera, ma è stato cresciuto in un laboratorio e quindi tu hai tolto la parte etica, la parte di sofferenza dell'animale, la carne sintetica eccetera eccetera, questo credo che sia il mix adesso l'abbiamo semplificato moltissimo sulla parte del pollo, o è regolatorio, o è culturale o è tecnologico, come ci salviamo? Allora iniziare a raccontare delle best practices, iniziare a raccontare da dove può arrivare il cambiamento, credo che sia un modo per incominciare a dare a chi ascolta l'utente una via d'uscita, è anche un modo magari di interessarsi principalmente, un modo in cui è più nelle loro corde un determinato tema e ci si può approfondire, si può andare in quella direzione. Ho guardato i dati, quando noi parliamo di sostenibilità su Will, interessiamo, i nostri contenuti hanno una reach maggiore del 10% rispetto alla media dei nostri contenuti e ancora di più rispetto ai nostri contenuti tolta la sostenibilità, quindi è curata da questo tema, perché è un tema che funziona, che ha molto interesse e la cosa interessante è che quando guardiamo la sottocategoria che funziona di più, è quella legata ad esempio al tema dei diritti umani, quindi ad esempio l'impatto del cambiamento climatico sulle migrazioni, per fare un esempio. Quello che funziona molto meno invece è l'aspetto dell'energia, perché è un tema dannatamente tecnico, la transizione energetica eccetera, è molto complicata da far passare, però è un tema che appassiona perché c'è la piena consapevolezza. Credo che le generazioni più giovani abbiano maggiore consapevolezza, diano quasi per scontata la necessità di una riflessione sul tema della sostenibilità ambientale e già buttino nel mezzo il tema della sostenibilità sociale, che le generazioni precedenti forse fanno ancora un po' più fatica a trovare. Il bilanciamento di questo è secondo me la necessità di raccontare, promuovere, divulgare una consapevolezza e un attivismo down to earth, quotidiano. Se noi dicessimo con Will da domani mattina tutti i vegani, credo che la risposta che otterremmo è pari e contraria probabilmente. Mia nonna ha campato fino a cent'anni mangiando così cos'ha e quindi questo mi rappresenta, non cambierò, sei nazi vegano. Quindi quello che noi proviamo a fare è un racconto quotidiano costante invece di buone pratiche che piano piano introducono nel cambiamento. Se ci guardiamo indietro il cambiamento va molto più veloce di come noi a volte lo interpretiamo, diciamo non stiamo cambiando abbastanza. Le cose invece stanno cambiando moltissimo, non a sufficienza sicuramente, ma stanno cambiando. Quindi questo dovrebbe darci un po' di ottimismo rispetto a come possono ulteriormente evolvere le cose. Credo, ritorno su questo aspetto per me molto importante, con un attivismo quotidiano. C'è una tensione enorme, specie nei più giovani, perché io ho 38 anni, sono millennial pieno e noi abbiamo vissuto come generazione una fase di non curanza, curante di attenzione e poi cannucce di carta come massimo apice del nostro attivismo e poi disperazione. il bilanciamento fra comportamento del singolo e comportamento della comunità, della collettività, quindi della politica, eccetera, è una cosa secondo me che genera molto stress, molta ansia. Quanto devo fare io e quanto mi devo aspettare che faccia la politica? E poi quale politica? L'Italia, l'Europa, ma in Cina non cambiano niente. Questo tipo di multilivello della complessità, credo che sia l'aspetto più interessante e più difficile. Il balance è ovviamente portare nella mia quotidianità una serie di comportamenti che so generare valore a livello collettivo, ma anche e soprattutto questo come dire, ovviamente porto acqua al mio mulino, promuovere dibattito, promuovere divulgazione, far vedere che c'è attenzione su questo genere di temi. Quando noi abbiamo fatto in occasione della campagna elettorale delle politiche le interviste a tutti i candidati, tranne uno, l'attuale Presidente del Consiglio che ha deciso di non venire, tutti gli altri sono venuti, abbiamo fatto mettere loro in ordine un set di priorità e abbiamo chiesto ai membri della nostra community di fare altrettanto. Ovviamente il tema dell'ambiente era altissimo e ognuno lo approcciava in maniera diversa, ma il fatto che dei candidati politici per le elezioni si fossero prestati a un media, principalmente di giovani, solo dei social, che secondo me fino a poco tempo fa era visto come un qualcosa di lontano, dà il senso della potenza del fatto di dire condivido questo posto, metto un like, commento, eccetera, metto una piccola lucina su un radar che però tutti insieme diventano qualcosa che può diventare interessante per un politico, eccetera, e quindi a quel punto si cambia l'agenda politica e tramite il mio interesse, il mio cambiamento singolo diventa potenzialmente un cambio di agenda pubblica, di agenda politica e credo che questo sia l'aspetto più interessato e potenzialmente più impattante che possiamo avere. Nella marea di informazioni appunto che cerchiamo e anche nel peso della consapevolezza legata a questi temi, che a volte è un macigno, arriva il carico da 90 di Netflix, Sky, DocuFilm, DocuSerie sul tema della sostenibilità. Ha un senso? Che senso hanno? Che impatto hanno? Per me qua la cosa più affascinante è il fatto che una piattaforma come Netflix o come Sky spendano dei soldi per fare dei documentari, per fare dei film, per fare delle docuSerie con delle gente anche di altissimo livello, DiCaprio, Zac Efron, eccetera, sul tema del cambiamento climatico. Netflix non è una onlus, quindi lo farà aspettandosi un ritorno, Sky lo fa aspettandosi un ritorno. Questo vuol dire che scommettono, investono, hanno visto dei dati che dicono c'è un interesse. E questa cosa secondo me è meravigliosa. Questo tipo di narrativa di nuovo fino a qualche tempo fa era destinata a un subset della popolazione molto ristretto, quello degli attivisti, persone che fortunatamente esistono, che si interessano, che si battono in maniera radicale perché quella determinata tematica fosse all'interno dell'agenda pubblica, ebbene oggi è diventato mainstream. Qualcuno può dire con minore intensità, è stato commercializzato, eccetera, però intanto tantissime persone ne parlano e secondo me questa è una ricchezza. Io dopo Airbnb mi sono occupato di monopattini elettrici e ho fatto un pezzo di strada insieme alle gambiente. Quando è stata approvata la normativa sui monopattini in Italia, il rappresentante delle gambiente con il quale abbiamo fatto tante cose insieme, mi guardo e mi fa, ha vent'anni che parlavo di sta roba. E io ho detto sì, però ci voleva un'azienda anche che generasse del momentum perché questa cosa diventasse sufficientemente di peso e credo che sia bellissimo che questo succede e che si allarghi la sfera. Noi abbiamo fatto, prima vi raccontavo questo giro, questo tour, una domanda che facevamo nei nostri eventi perché non c'era un panel, non c'era un momento di questo tipo in cui uno parla, la tua ascolta, ma era proprio condividiamo. La domanda dalla quale partivamo semplicemente era qual è il tema più complesso da discutere a pranzo con i tuoi genitori la domenica? Ed è una domanda tanto semplice quanto affascinante perché la risposta era il cambiamento climatico, il DDL ZAN, un paio di anni fa, quindi era top di agenda, ma io che sono del 1985, quando avevo vent'anni non avrei mai risposto che il tema più difficile ma per me più importante mettere a pranzo con i miei genitori era un disegno di legge contro l'homo bi-transfobia. E credo che sia un cambiamento meraviglioso. Quindi c'è di nuovo una base di persone che richiede, che premia, che si impegna su questa roba e dei provider che fanno dei contenuti. Will prova in questo senso, noi abbiamo fatto con Sky una partnership e abbiamo realizzato un documentario che abbiamo chiamato Junk, armati pieni, realizzato in sei posti in giro per il mondo sulla sostenibilità del mondo del fashion. If any, direbbero gli americani, ma insomma diciamo gli ampi margini di miglioramento qua e là dell'industria del fashion, e visto come mi sono raddrizzata in base al luogo dove sono, dal Cile, al Ghana, al Bangladesh, in Indonesia, in Veneto da noi. Sei puntate che trovate su YouTube con Matteo Ward, che è questo ragazzo straordinario che si occupa di sostenibilità appunto del mondo del fashion, sia in termini di costruzione di catene del valore miste, circolari, che possano ridurre gli impatti, ma anche in termini proprio di divulgazione, che è un aspetto secondo me che tra l'altro gli viene particolarmente bene e questo documentario, quello che noi abbiamo fatto è semplificare, abbassare un po' l'intensità, cioè non è l'inchiesta cattiva per smascherare, ma è pensato per raccontare, per interessare. La cosa bella è che è arrivata un sacco di persone che non avevano ancora quel tipo di sensibilità, ma davanti a sei puntate semplici da 20 minuti, mezz'ora, adesso 25 minuti se non ricordo male, si interessano e allora a quel punto incominciano a googolare, incominciano a stare più attenti. Oggettiva. Esattamente. Quando poi riguardi il tuo armadio effettivamente ti viene qualche pensiero in più e dici, vabbè, aspettiamo se c'è una prossima volta a comprare, ma se compro un'altra cosa la prossima volta ci sto attento. Come succede col cibo, no? Esattamente. Quindi questo secondo me è l'aspetto più potente di quello che si prova a fare. Il balance ovviamente è sempre quello di tenere attivo chi questo tema lo vede come potenzialmente interessante, ma non è il suo focus quotidiano, con l'attivista che invece ovviamente poi dice, era il discorso di ieri, la sfida è un'altra, ognuno deve fare il suo mestiere naturalmente. L'obiettivo di Will è quello di coinvolgere persone che non sono lettori tradizionali di notizie, che non sono attivisti quotidiani, ma che invece possono interessarsi. La fascia di 18-35 che principalmente è la nostra community ha molto questa sensibilità, c'è un 20% della nostra community che ha più di 35 anni, molto positivo questo primo aspetto. Perché a proposito del discorso che diceva prima, le generazioni con la divisione lì in ufficio mi prendono in giro perché dico sempre le stesse cose al punto tale che se venite in ufficio di Will la password del wifi è cerniera generazionale perché è la mia fissa, unire le generazioni. Se è un media dei giovani per i giovani con i giovani rimane là dentro ghettizzato questo tema non andiamo da nessuna parte, dobbiamo assolutamente portare quanto prima a bordo le generazioni precedenti, unirle in una battaglia che è di tutti. Se invece la richiesta dei giovani lo trovo quasi offensivo. Grazie.